ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono john red e prima di vedere l'eliminato della sesta puntata del serale di amici 22 vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti quindi carte ramon è l'eliminato della sesta puntata il web però non è contento sono in molti infatti ad accusare cricca di essere raccomandato comunque a ramon gli è stato offerto una borsa di studio di sei mesi in una prestigiosa compagnia di ballo negli stati uniti e voi siete d'accordo con questa eliminazione scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio da ciorette